Si può arginare solo con il comportamento responsabile di tutti. È fondamentale rispettare le seguenti norme. Uscire di casa solo in caso di necessità. Evitare le aree affollate. Mantenere la distanza di sicurezza di un metro gli uni dagli altri. Evitare contatti fisici compresi i saluti. Quindi, lavare spesso e accuratamente le mani. Insieme ce la possiamo fare, ma è indispensabile essere prudenti. Grazie a tutti. 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 Prega per noi, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Dal Vangelo secondo Matteo. Ma l'angelo disse alle donne, non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Ecco io ve l'ho detto. Dalla Rosarium Virginis Marie di Papa Giovanni Paolo II Contemplando il risorto, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia non soltanto di coloro ai quali Cristo si manifestò, gli Apostoli, la Maddalena, i discepoli di Emmaus, ma anche la gioia di Maria che dovette fare un'esperienza non meno intensa della nuova esistenza del Figlio glorificato. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a diventare santi seguendo lei e Gesù sulla via dell'umiltà e dell'obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in dentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, oggi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in giro tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle grazie, prega per noi. San Pio da Pietrecina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. E i discepoli, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Dalla Rosarium Virginis Marie. Cristo è il Maestro per eccellenza, il Rivelatore e la Rivelazione. Non si tratta solo di imparare le cose che Egli ha insegnato, ma di imparare Lui. Ma quale Maestra è in questo più esperta di Maria? Nessuno meglio di lei conosce Cristo. Nessuno, come la Madre, può introdurci a una conoscenza profonda del suo mistero. E possiamo immaginare che tale funzione Ella abbia svolto per i discepoli dopo l'ascensione di Gesù, quando rimase con loro ad attendere lo Spirito Santo e li confortò nella prima missione. Preghiamo la Vergine Maria affinché resti sempre con noi per guidarci a una più profonda conoscenza di Gesù lungo la missione della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, oggi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in gelo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietrecina, prega per noi, Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e gli Apostoli congregati in preghiera nel Cenacolo. Dagli atti degli Apostoli, giunto il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte Gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Contemplando La Pentecoste mostra il volto della Chiesa quale famiglia riunita col Maria, ravvivata dell'effusione potente dello Spirito, pronto per la missione evangelizzatrice. La contemplazione di questo, come degli altri misteri gloriosi, deve portare i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova in Cristo, all'interno della realtà della Chiesa, un'esistenza di cui la scena della Pentecoste costituisce la grande icona. Preghiamo la Vergine Maria affinché la nostra vita di preghiera sia assidua e ci ottenga la grazia della sapienza per conoscere e vivere la verità e comunicarla agli altri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in dentazione, ma ribereci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietricina, prega per noi, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria Santissima in corpo ed anima al cielo. Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù pregava dicendo, Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano col me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Dalla Rosarium Virginis Marie, Maria dovette fare un'esperienza intensa della nuova esistenza del Figlio glorificato. A questa gloria, che con l'ascensione pone il Cristo alla destra del Padre, e la stessa sarà sollevata con l'assunzione, giungendo, per specialissimo privilegio, ad anticipare il destino riservato a tutti giusti con la risurrezione della carne. Preghiamo la Vergine Maria affinché ci aiuti a restare sempre i Suoi fedeli devoti e testimoni credibili del Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in giro tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle grazie, prega per noi, San Pio da Pietrelcina, prega per noi, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Del quinto ed ultimo mistero della gloria, contempliamo l'incononazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra, nella gloria degli angeli e dei santi. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni, evangelista. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di dodici stelle. Dalla Rosarium Virginis Mariae, coronata di gloria, Maria rifugge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione vertice della condizione scatologica della Chiesa. I misteri gloriosi alimentano nei credenti la speranza della meta escatologica verso cui sono incamminati come membri del popolo di Dio pellegrinante nella storia. Ciò non può non spingerli ad una coraggiosa testimonianza di quel lieto annunzio che dà senso a tutta la loro esistenza. Preghiamo la Vergine Maria confidando in lei quale nostra Regina e Madre Celeste affinché ci sostenga e ci conforti in ogni nostra necessità spirituale e temporale. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in dentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, oggi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in geno tutte le animi, specialmente le bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietrelcina, prega per noi, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve, Ad te clamamus, Exules Filii Eve, Ad te suspiramus, Lleventes enflentes, In a glacrimarum vale, Eia, Vergo, Advocata Nostra, In los tuos misericordios ocultos, Ad nos converte, Et Iesum benedictum fructum ventris tui, Nobis postoc exilium ostente, O Clemens, O Pia, O Dulcis, Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre Celeste Dio, Abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo Dio, Abbi pietà di noi, Spirito Santo Dio, Abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, Abbi pietà di noi, Santa Maria, Prega per noi, Santa Madre di Dio, Prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi, Madre di Cristo, Prega per noi, Madre della Divina Grazia, Prega per noi, Madre della Chiesa, Prega per noi, Madre Purissima, Prega per noi, Madre Castissima, Prega per noi, Madre Inviolata, Prega per noi, Madre Intemerata, Prega per noi, Madre Amabile, Prega per noi, Madre Ammirabile, Prega per noi, Madre del Buon Consiglio, Prega per noi, Madre del Creatore, Prega per noi, Madre del Salvatore, Prega per noi, Vergine Prudentissima, Prega per noi, Vergine degna di venerazione, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della giustizia, sede della sapienza, causa della nostra letizia, dimora dello Spirito Santo. Vaso degno di onore, prega per noi, modello di vera pietà, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre di Davide, prega per noi, torre di Agorio, prega per noi, tempio d'oro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori, prega per noi, regina delle vergine. Regine di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del santo rosario, regina della famiglia, regina della pace, regina dell'ordine serafico, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, oh Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaurisci, oh Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, sotto la Tua protezione cerchiamo il rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suffriche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, oh Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, finché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio che nella gloriosa risurrezione del Tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concede a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amén. Preghiamo ora, secondo l'intenzione del Santo Padre, per l'acquisto delle santi indulgenze. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in dentazione, ma liberaci dal male. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essa, nell'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Per tutti i fedeli defunti, l'eterno riposo, dono l'oro, Signore, e prendi ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amén. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi e governa a me, che ti fui affidato dalla pietà geneste. Amén. Affidiamo la Chiesa, il Santo Padre, le nostre famiglie, le nostre comunità, l'Italia e il mondo intero, alla protezione sollecita dell'Arcangelo, San Michele. San Michele, Arcangelo, difendici nella battaglia. Sì tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amén. Preghiera a San Pio da Pietrecina, di Papa Giovanni Paolo II Umile ed amato Padre Pio, insegna anche noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci. Certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova. E se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel peregrinaggio terreno verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E ora concludiamo con il saluto della buonasera alla Beata Vergine Maria. Buonasera, Madonna mia, tutto il mondo a te s'inchina. Per quel frutto che portasti, tutto il mondo illuminasti. Illumina l'anima mia. Buonasera, Madonna mia. Tu sei la Madre mia, Immacolata Concezione. Dai a noi tutti la tua santa benedizione. Amén. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Amén. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria, risorto dal sepolcro, custodisca e integra in voi la fede del fonte battesimale. Amén. Lo Spirito Santo che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Amén. E la benedizione di Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amén. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Vendiamo grazie a Dio. Andrò a vederla un dì Al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì e il grido di speranza che infonde mi costanza nel viaggio e fra i dolor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Buona e santa notte a tutti. Grazie. 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 Grazie.